Ha portato un pensiero al circolo. Non ci credo. E lui porta un pensiero al circolo. Secondo noi il momento migliore era insieme a bambini che lo adorano. Allora, abbiamo qui un grande Andrea Gazzi. No, ma... Giove. Che abbiamo qui da quando era bambino. Vero. Ha preso il premio come miglior giovane nell'anno 2003. Quando era giovane. Quando era giovane. Ora fosse più giovanissimo. E siamo fieri di averlo ogni anno qui con noi. Ogni anno è amico di tutti. Si presenta come un campione in campo e un campione nella vita fuori campo. Questo grande amico, unico nel suo genere, che ha una sua classe, ha un suo stile, è una persona eccezionale. Mi dicono che è venuto e ha portato a noi un regalo. aspetta come un'attività. Per me è il decimo anno qui. E' vero. Per me è il decimo anno qui. Forse l'ultimo, non lo so. e a tutto il pubblico e tutti i cittadini più o meno. Grazie.